Grazie Ecco Colpito Dio ciano questo percatore di merda Porco dio Dai che non è finita ragazzi Tempo Volo Volo Ce n'hai uno sopra sinistra Dietro i legni Lo so Volo 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 grande Jemar Jemar l'ho fatto è un'aduloso è un'aduloso è un'aduloso questo è un'aduloso aspettando che arriva a si può dire libero è un'aduloso è un'aduloso è un'aduloso ma lo so dove volevo venire a prendere il testo e venivi avanti ma io l'ho già passato da un po' ma lo so capito voi avete preso anche io benvenuto per andare allora facciamo